queste battute, al numero 14, viene troncato con violenza il rapporto con Dio. Io faccio un atto di violenza e spezzo il rapporto. Sentite questo, è un atto suicida. Per l'uomo il suo equilibrio interiore si rompe e proprio al suo interno scoppiano contraddizioni e conflitti. Provate a pensare, voi che avete certamente esperienza di confessionale, se è vero o non è vero questo. Quando entra il peccato in una persona, quella persona comincia a essere squilibrata. Scoppiano contraddizioni e conflitti. Sentite un'altra battuta. L'uomo così lacerato produce quasi inevitabilmente una lacerazione nel tessuto con i suoi rapporti. Qualche volta quando sento una madre disperata per un figlio, era tanto buono, tanto buono, e adesso, e adesso, e adesso è diventato insopportabile, non gli si può parlare. Quella mamma, se posso dire in confidenza, io gli dico, ma mia cara signora, suo figlio, sua figlia, vive in peccato mortale dalla testa ai piedi. Ma si capisce che i suoi rapporti non funzionano più. Una battuta che mi ha molto colpito, il numero 16. Avviene un indebolimento della volontà e un oscuramento dell'intelligenza. Questa osservazione è forte. È forte. Avviene un indebolimento della volontà e un oscuramento dell'intelligenza. Io penso a certi teologi che hanno perduto la testa. Io vorrei vedere solo la loro vita privata. Come funziona. Ho persino avuto una voglia di fare un viaggio da Lefebvre per vedere cosa c'è sotto sto Lefebvre. ma penso che la stessa musica c'è sotto Hans King. Non so, queste segretari che si tira sempre dietro dal mattino alla sera non mi danno mica tanta tranquillità che lui vive il suo sacerdozzo limpidamente. A me sembra che questa verità è bruciante. Un indebolimento della volontà e un oscuramento dell'intelligenza. Tu non sei più capace a volere. E non capisci più certe cose. E poi un'osservazione che è importantissima e che dovete tenere molto presente per quando confessate gli altri al numero 17. Soprattutto tenetelo molto presente coi giovani questa osservazione del Papa. Si possono dare situazioni molto complesse e oscure sotto l'aspetto psicologico che influenzano sulla imputabilità soggettiva del peccatore. Dovete tenerlo molto presente nel giovane. Certe debolezze dovete giudicarle con una bontà, con una tenerezza. Perché? Perché ci possono essere situazioni molto complesse, molto oscure sotto l'aspetto psicologico. Non so, un ragazzo disperato. Ma quando manca non posso giudicarlo come un ragazzo che ha tutto liscio davanti a sé. Quando c'è una croce che ti perturba l'anima, una bestia dentro che ti divora per abitudini prese, ma devi tenerlo presente questo. L'imputabilità soggettiva è molto influenzata. Il non giudicare in superficie. Dunque da questa parte del documento io ricavo per me soprattutto questo. Il Papa come ha coraggio di dir pane al pane, avere il coraggio di smascherare il nostro peccato. E adesso per noi oggi il primo segno di pentimento, la sincerità sanguinante. Ricordatevelo bene. L'insidia della confessione truccata c'è per tutti, anche per noi preti. Il primo segno di pentimento che devo pretendere in me, sincerità sanguinante. E vi dico subito, quando siete ben preparati, confessatevi. Confessatevi dal primo che vi capita. Perché non dovete confessarvi a un uomo, dovete confessarvi a Gesù Cristo. Potete anche confessarvi a un palo, purché vi confessate a Gesù Cristo. Quindi non state tanto a pensare, confesso di qui, confesso di là. E se vi confessate da uno che vi costa, è ancora meglio. Perché anche quello è una riparazione. Ed è bello che siamo tutti preti, quindi quando siete pronti, avanti, prendete il primo compagno che vi sembra, andate magari nel parco della via Crucis, vi inginocchiate e avanti. E il primo segno di pentimento, sincerità sanguinante. Ecco, secondo asse portante del documento, direi che è questo. Capire il pentimento. Il Papa batte molto lì sopra. L'uomo contemporaneo vive sotto la minaccia di un'eclissi della coscienza, un'anestesia della coscienza. E insieme con la coscienza viene oscurato anche il senso di Dio. E allora, smarrito questo decisivo punto di riferimento interiore, si perde il senso del peccato. Il senso del peccato, dice, si ristabilisce soltanto con un chiaro richiamo agli inderogabili principi di ragione e di fede. E allora lui propone teologia biblica, buona catechesi, è una prassi accurata del sacramento. Più ti allontani dal sacramento, più diventi grossolano. E il prete che sta tanto senza confessarsi, si corazza, si corazza, si corazza. Il senso del peccato se ne va sempre, sempre di più. Il Papa quando parla di formazione della coscienza è tremendo, dice, urge una catechesi sulla coscienza e la formazione della coscienza deve essere un acuto tema di attualità. Io devo fare proprio una catechesi profonda sulla coscienza e continua. E quando entra nell'argomento coscienza gli mancano le parole a descrivere il problema. Coscienza, il santuario interiore, l'io più intimo dell'uomo, l'occhio interiore, la capacità visiva dello spirito per guidare al bene, il luogo santo dove Dio rivela all'uomo il suo vero bene. E poi il Papa da questa testimonianza bellissima dice, non tralascio nessuna occasione per far luce su questa altissima componente della grandezza e dignità dell'uomo, la coscienza. Non tralascio nessuna occasione. E lo vediamo, ne parla in quasi tutti i discorsi. E in tutti i viaggi c'è il tema formazione della coscienza. E deve entrare nella nostra cucurbita. Io devo formare le coscienze. E se mi decido a formare le coscienze, stai tranquillo che formi la tua coscienza. Trascurare la formazione della coscienza è peccato gravissimo per un prete. E la coscienza si forma sulla coscienza di Cristo. Chi stabilisce ciò che è male e ciò che è bene non è né l'uomo né i vescovi né il Papa, è solo Gesù Cristo. Quindi l'istruzione, il culto, la passione della parola, mi deve prendere. La parola è l'ossigeno della coscienza. Conoscere Cristo in modo personale, vitale. La coscienza si forma sulla coscienza di Cristo. Più ti accosti a Cristo, più si affina la tua coscienza. Non vi ho ancora detto che noi quando facciamo questi corsi, tutti gli anni facciamo, che durano un anno, sulla preghiera del cuore ai giovani. E noi abbiamo queste tre direttive. Preghiera, i tre P, le tre colonne. Preghiera, parola, poveri. Ecco, cerchiamo di formarli su quelle tre rotaie lì. Preghiera. E perciò portarli alla preghiera del cuore, alla preghiera profonda, alla preghiera che ti toglie le maschere. Poi parola. E allora avanti. Tanta parola di Dio. Tanta parola di Dio. Tanta parola di Dio. E insegniamo che non basta leggere. bisogna proprio arrivare a nutrirsi, ad assimilare e perciò a girare tutta la giornata intorno alla parola di Dio. Mi fa un piacere vedere giovani operai che adesso partono per la Fiat e dentro la borsa c'è il pranzo ma c'è la parola di Dio, c'è la Bibbia. E non si può più vivere un giorno senza la parola di Dio. Perché è qui che si affina la coscienza. E mi succede questo, che vedo proprio una coscienza nuova che nasce. Man mano che crescono nella parola, man mano che crescono nella preghiera. La coscienza si affina. E per esempio sboccano lì sul bisogno di darsi ai poveri. E noi battiamo questo chiodo. E comincia dal povero di casa tua. Comincia dal povero di casa tua. Perché in casa tua hai sempre un povero di turno. Un giorno è tuo padre, un giorno è tua madre, un giorno è tuo fratello, un giorno è tua nonna. Ma c'è sempre il povero di turno. E tu fai sempre finta che non ci sia. Comincia dal povero di casa tua. E comincia a scoprire tuo padre, scoprire tua madre. Non ti accorgi che non dici mai grazie. Non ti accorgi che comandi come un despota. Non ti accorgi che brontoli dal mattino alla sera. Non ti accorgi che fai delle autentiche ingiustizie in casa tua. E poi vai in giro a fare i gruppi, a cantare, a ballare per il Signore, a cogliere il ferro rotto, a fare tutte queste cose belle. Il povero di casa tua. E poi subito dopo il povero che ti aspetta sull'uscio. Guai se ti fermi in casa tua. Il povero che ti aspetta sull'uscio. E tutti i giorni, e insistiamo, devi fare le tre comunioni tutti i giorni. La comunione con Cristo, possibilmente con l'Eucaristia, e se non puoi con l'Eucaristia, almeno con l'ora di preghiera. Poi, la comunione con la parola, e tutti i giorni, non puoi vivere un giorno senza comunione con la parola. Terzo, la comunione col povero, e tutti i giorni. Prima il povero di casa tua, poi il povero sull'uscio. Ecco, e vediamo proprio che questo cammino di preghiera e di parola affina la coscienza, affina la coscienza. A un certo momento non possono più che vivere così. E li scorgiamo cristiani. Una catechesi permanente che li porta lì. Ecco, e quando parlo di coscienza con i giovani, io dico, per me la coscienza è solo questo, che tu abbi il coraggio di sopportare lo sguardo di Gesù Cristo. Questa è la coscienza. E a voi preti dico la stessa cosa. La coscienza è solo questo, che tu abbi il coraggio di sopportare lo sguardo di Gesù Cristo, di guardarlo negli occhi. Questa è la coscienza. E la preghiera opererà in te il travaso della mentalità di Cristo. Ecco, poi la terza parte del documento, il Papa dice che bisogna capire il sacramento. Perché? E perché lui intravede che non si è capito abbastanza. Allora una battuta, non possiamo fare molto, ma una battuta, alcune battute. Il Papa dice che la coscienza della Chiesa scorge, in questo sacramento, un carattere terapeutico e medicinale, luogo di guarigione spirituale. Questo è importantissimo. Importantissimo. Io mi devo confessare, non solo perché ho bisogno che Dio mi perdoni, ma ho bisogno di essere curato. Ho bisogno di terapia. il sacramento non mi perdona solo. Il sacramento mi cura. È una cura terapeutica, mi dà forza. È per questo che non posso stare così tanto senza sacramento. E per favore, lasciatemi dire una cosa da arrabbiato. Il maneggiare il sacramento alla Garibaldina, come fanno tanti preti, è un delitto. È un delitto. È un delitto. Certe confessioni pasquali sono un delitto. E il prete farebbe meglio, invece di confessare, prendere una frusta e fargli correre tutti. Deve istruire, deve istruire, deve istruire, se no non possono ricevere il sacramento efficacemente. E certe confessioni sono un macello delle anime. Il Signore non può volere questo. Quando vanno avanti, dicono così, nessuna ombra di... ma questo è profanazione del sangue di Gesù Cristo. Non potete tollerare questo. È la colpa di noi preti che non diamo la preparazione e deve entrare bene nella testa, nella vostra conversione. Questo punto. Io adesso voglio prendere su serio il sacramento, prima di tutto per me. Voglio prepararmi sempre al sacramento. E anche quei benedetti confessioni di devozione. Fateli correre. Io penso che certi conventi sono stati rovinati per queste confessioni di devozione. C'è il confessore, avanti tutti a confessarsi. Ma insomma, ma si può trattare così il sacramento? Andare a confessarti e non hai neppure pensato? Non ti sei pure messo le mani sulla coscienza? Qual è la cosa che ti separa? A me sembra che bisogna farla finita col sacramento preso alla leggera. E vi dico anche che quando comincerete nelle vostre parrocchie a dare un'importanza massima al sacramento, poi vedete come corrono i giovani. Noi facciamo fatica a difendersi. ma quando c'è la ressa e mi chiedono padre mi confessa? Un fico secco, ti confesso niente. Puoi mica confessarti se non ti sei preparato. Io impiego tre giorni a prepararmi. E tu quanti giorni ti sei preparato? Padre mi confessi. Ma cosa? Padre mi confessi? Ma non sei entrato nella coscienza. Puoi parlare di confessione. Io credo che questo è pietà verso il penitente. Portarlo all'autenticità in questo sacramento. Prima di tutto devi incontrare te stesso, fino in fondo, e dirti la verità, fino in fondo, e prepararti. E poi tuffarti nelle mani della misericordia di Dio. Io penso che se noi siamo conniventi con questo andazzo di lasciare praticare il sacramento trick-track, io penso che facciamo un delitto. E penso che la crisi del sacramento l'abbiamo causata noi preti, maneggiando alla Garibaldina il sacramento. E allora il Papa dice chiaro, l'atto essenziale è la contrizione. Chiaro e deciso ripudio del peccato, per l'amore che si porta a Dio. E poi dice una battuta che fa fremere, sentite, alla soluzione, dice queste parole, che la soluzione è il segno dove il peccatore, contrito e convertito, entra in contatto con la potenza e la misericordia di Dio. Contrito e convertito. Lui quando deve venire da me per ricevere la soluzione, deve già essere contrito e convertito. E allora entra in contatto con la potenza e la misericordia di Dio. Ma lui deve essere contrito e convertito. E allora, ecco, andiamo al pratico, la grande lezione di questi richiami del Papa. Io devo essere sicuro del mio pentimento. E sapete che il Papa dice, ma cominciate voi preti a riceverlo in maniera nuova il sacramento. Ecco, se voleste ascoltarmi, vi do solo questo consiglio. Andate a casa, se volete, una conversione seria, con questa decisione. Quando mi confesso impiego tre giorni per preparare. Tre giorni. Tre giorni. E non mi confesso più alla garibaldina. Allora poi nasce in voi il bisogno di preparare la gente. Nasce in voi il bisogno di fermare questo andazzo di profanazione del sacramento. Devo essere sicuro del mio pentimento. E la sicurezza nasce di qui. Sta nelle decisioni. Decisioni concrete, proporzionate, intelligenti. Proporzionate a quello che ho fatto. E qui, per forza, io ho bisogno di silenzio, di preghiera, di riflessione, di solitudine con me stesso da capire. Devo interrogare Dio? Signore, le mie decisioni? Come posso farle concrete su questa faccenda? Come può essere proporzionata? Come può essere intelligente? E poi, soprattutto, io insisterei su questo punto. la riparazione adeguata ai miei peccati. Perché se c'è la riparazione c'è di sicuro il pentimento. E se non c'è volontà di riparazione è probabile che non ci sia il pentimento. E ai preti il Papa scongiura così. Favoriscono con tutte le forze la frequenza. Mettano in opera tutti i mezzi possibili e convenienti. Tentino tutte le vie per far pervenire al maggior numero dei nostri fratelli la grazia che ci è stata data. Insomma, il Papa dice, fai sta rivoluzione, bravo, di far riscoprire il sacramento del perdono. Come l'avete fatto voi. Ma io vi dico che il sacramento del perdono, quando è preparato bene, è la cosa più commovente che esista sulla terra. E lo proverete con i giovani, se voi partite bene. Decise a mai più lasciar profanare questo sacramento. Adesso ancora una battuta del Papa. Una nota psicologica importantissima contenuta nel documento. Io penso sia la nota più originale di tutto il documento. Il Papa tocca l'argomento del pentitismo facile e lancia un grido d'allarme che il sacramento non è una magia. Al numero 31 dice, dopo l'assoluzione rimane nel cristiano una zona d'ombra dovuta alle ferite del peccato, all'imperfezione dell'amore nel pentimento, all'indebolimento delle facoltà spirituali. Dunque, quando mi son confessato bene, io non devo dormire. Il Papa mi dice chiaro, ricordati che in te c'è una zona d'ombra. È causata dalle ferite che ti ha dato il peccato. Imperfezione dell'amore nel pentimento. Tu ti sei pentito, ma era molto elevato il tuo amore? Poi, l'indebolimento delle facoltà spirituali. Credo che intenda dire fede, speranza, carità, le facoltà spirituali. Perché ogni volta che pecchi si indebolisce la fede, si indebolisce la speranza, si indebolisce la carità, l'indebolimento delle facoltà spirituali. Allora, ecco, c'è una zona d'ombra dentro di te, in cui, dice il Papa, opera ancora un focolaio infettivo di peccato che bisogna sempre combattere, sempre tenere gli occhi addosso a questo focolaio infettivo di peccato. Quindi, ricordatevi bene, dovete spiegarlo bene ai giovani. Quando ha fatto tutto, quando è tutto a posto, bisogna aprire gli occhi. Guarda che tu hai poi una zona d'ombra in cui agisce, in cui sei debole e devi darti da fare. Ecco, il Papa richiama contro la magia del sacramento. Ecco, ho finito. Adesso vorrei tanto pregarvi che quando vi confessate uno con l'altro, non potreste dare questa parola di vita. Noi scegliamo sempre una parola di vita che guidi. Se volete, poteste dare questa parola di vita a chi si confessa da voi. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Poi non potresti farmi questo piacere. Scegliere un atto, una penitenza particolare. Fate, se vi sentite, se è accolta questa penitenza. Questa penitenza per un mese, via mettiamo due mesi, e se la persona è lanciata tre mesi, fino a un anno anche. Questa penitenza, tutte le volte che dici la messa, quando hai finito la messa, fai un quarto d'ora di preghiera del cuore. È il momento più prezioso per la preghiera del cuore. Per un mese come penitenza, e condate dal mese all'anno, e poi dipende dal vostro penitente, gli proponete che scelga lui quanti mesi fare questa penitenza. Dopo la messa, un quarto d'ora di preghiera del cuore. Credo che questo sia proprio importante per essere ben a posto con quello che abbiamo. Ecco. E poi, dunque, io confesso nella mia stanza, al numero 11, sesto piano, chiedo a chi viene di avere compassione, non di me, ma di chi fa la coda, di chi fa l'attesa. E allora siate comprensivi, non discorsi inutili, ma aprire il cuore e basta, se potete.